Prima puntata, quella di ieri 17 aprile 2023 dell'Isola dei Famosi, condotta ovviamente da Ilari Blasi. È stata una puntata bella, di cui in gioco vi ho parlato, facendovi la recensione proprio di sera, su Tardi, che vi invito a vedere, perché troverete ripeto la recensione di questa prima puntata dell'Isola dei Famosi. Bene, ma vediamo in questo nuovo video di oggi, già 8 aprile 2023, cos'è accaduto? Ebbene, due naufraghi sono stati nominati in questa prima puntata. Si tratta di una donna e di un uomo. La donna è Elena Prestes, il uomo è il buon Marco Predoin, volto storico della TV italiana a cavallo tra ieri 70 e 80. E' stata una bella puntata, ci sarebbe stata una vecciadina da parte di Ilari Blasi, di confronti di Francesco Totti. Ilari che, vi ricordo, ha sfoggiato un nuovo look, infatti apparsa con occhi un pochino più, secondo me, piccoli, a livello di dimensione, non è un'offesa, non è un elemento di diffamazione, assolutamente, perché rimane sempre una bellissima ragazza. E con i capelli più vaporosi e più gialli, più biondi, secondo me, rispetto a come l'ottima. Ebbene, vi ricrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al mio canale di Youtube, buona notte via commentare, ciao a tutti e un buon giorno a voi.